Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e mi trovo qui con Cozzetta. Ciao Cozzetta, buonasera. Ciao. Cozzetta ha partecipato al corso di nove settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce con gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele. Ed è qui per raccontarci com'è andata questa esperienza. Ciao Cozzetta. Allora Cozzetta, raccontami un po' com'è andata. Posso dire che è andata benissimo. Era un'esperienza che io avevo tanto tempo, avevo questo desiderio di partecipare. Poi è arrivato il momento che io sono riuscita a partecipare e ero molto contenta che sono riuscita a fare questo. Avevo tanto, tanto tempo da fare un sogno. Che bello. Ascolta, raccontami un po', com'è stato accedere a queste nuove frequenze di luce? Posso dire che accedere alle nuove frequenze di luce per imparare è una cosa molto semplice e per mettere in atto, per fare questo viene un lavoro, è una cosa straordinaria. Posso dire. Tu hai avuto beneficio dalle nuove frequenze di luce, Cozzetta? Sì, io ho avuto beneficio perché io prima ho usato per me stessa. Ogni giorno che io studiavo e facevano anche il corso, io per la prima lo facevo per me stessa e mi sentivo proprio rigenerata. mi sentivo, avevo tirare via i dolori che avevo. Poi sviluppare la mia crescita spirituale. Io ho tanto tempo e con tanti corsi che ho fatto. Questo proprio mi ha completato il mio... La tua formazione. Che bello. Ascolta, hai praticato, hai lavorato anche su altre persone? E com'è andata? Sì, ho praticato con i miei familiari e i miei parenti. Perché io, infatti, questo corso ho cominciato per me stessa, per i miei cari. Poi, non so mai dire mai, dicono che magari lo faccio in professione, però io ho iniziato per questo scopo. Certo. E ho praticato con i miei parenti, posso dire con i miei familiari e ho visto dei cambiamenti. Anche quando io lo faccio anche con mio figlio, da lontano. Lui lo dico che io ti ho fatto... La sessione. E mi dice, mamma, io lo sento, sento l'energia che mi arriva. Che bello, bello, bello. Allora, ascolta un po'. Noi abbiamo fatto anche Logo Sealing, giusto, dalla quinta settimana. Questo è un bonus che io ho aggiunto nel percorso delle nove settimane. E Logo Sealing l'abbiamo utilizzato per sciogliere i blocchi, le paure, le credenze limitanti. Dimmi un po', com'è andata con Logo Sealing? Io ho sentito il Logo Sealing perché prima io facevo cinque elementi, tutti questi che noi facciamo poi dopo, Logo Sealing. Invece con Logo Sealing io ho sentito sciogliere i blocchi, piano piano però, perché sentivo questi blocchi sempre. e mentre noi facevamo io li sentivo sbloccare, solito. Andare via. È una cosa proprio completata. Quando hai bisogno per una cosa, prima fai Logo Sealing, poi facciamo la riprogrammazione. È una cosa proprio completata. Completata. Non completa che tu fai fatica di trovare, anche se nei altri corsi sono bellissimi, ti aiutano molto. Questa è proprio la cosa in più, la marcia in più. È bello, questo è un bellissimo complimento, Cosetta. Sono contenta. Quindi per te è una cosa che ha completato la tua formazione, vero? Sì, ma io adesso mi sento completa. Completa. Bellissimo. E tu ti consiglieresti questo percorso, Cosetta? A tutti. Io ti consiglierò di fare tutti. Tutti perché, prima come ho detto, è una cosa molto semplice e molto importante. Sono due cose che ogni persona può studiare e può fare sua. Ogni persona al mondo. Esatto. Senza avere difficoltà. Esatto. Bene, bene. Grazie per la tua testimonianza favolosa. Veramente sei stata chiarissima. Io ti ringrazio col cuore. Tanta luce, tanta benedizione a te, ai tuoi cari e a tutte le persone a cui farei conoscere le nuove frequenze di luce. Cara anima meravigliosa. Anche io ti ringrazio dal mio cuore che sei stata in questo momento della mia vita che avevo tanto bisogno di avere anche questo corso che proprio era il top. Che bello. Grazie, cara Cosetta. Un abbraccio immenso col cuore. Ciao, carissima. Ciao, ciao. Ciao.